Dal 7 al 19 maggio, con la settimana identitaria, Pietramonte Corvino aprirà per intero lo scrigno del proprio patrimonio materiale e immateriale di cultura, tradizioni e progetti innovativi, paesaggi architettonici e naturalistici. Lo farà con 13 giorni di appuntamenti e 40 eventi tra concerti, mostri, escursioni, convegni e visite guidate. Il programma della rassegna è ricco ed è un ricco pellegrinaggio processione che giovedì 16 maggio, come ogni 16 maggio dal 1889, condurrà centinaia di petraioli di tutte le età dal borgo a sito archeologico di Monte Corvino, attraversando un mare di grano verde per celebrare Sant'Alberto Normanno, patrono di Pietra. La particolarità più spettacolare e coreografica di questa processione è quella dei pali altissimi, colorati, addobbati da mille scialli variopinti. Vengono portati a braccia e retti da squadre di otto persone tenuti in equilibrio attraverso funi che disegnano geometrie nel cielo. Il programma della settimana identitaria comincia il 7 nei giorni a seguire. Fino al 19 maggio non ci saranno soltanto concerti, convegni, mostre ed esposizioni, anche visite guidate ed escursioni.